Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle Oggi purtroppo non sto registrando con Erika, non sto registrando con Carlotta Non sto registrando, non lo so, con qualcuno che passava per caso Ma con il nostro amico Ferrix Io ci vengo da Roma per farmi trattare così, non prendete conto Giusto, 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 giusto Non ti devi abbacchiare così perché tu hai già perso tutto sul tuo canale Ha perso tutto, ha perso... Quello tutto quello che poteva vendere Ovviamente passate prima da me per vedere la prima sinistra La becera figura che ha fatto Adesso gli sto dando la rivincita, nient'altro che la rivincita Per, su Mario Kart 8 Deluxe Prima ho preso in tuo onore Baby Peach Che secondo me porta sfiga, Baby Peach Baby Peach E io prendo... Io prendo sempre Mario Tanuki E io prendo Yoshi Yoshi nero Io tengo sempre Mercedes È un po' troppo nero Ma che è? È un po' troppo nero Ma che gli è successo? Tu prendi il Mercedes e io prendo questa qua così Vai, ok, let's go Vai! No, questo l'abbiamo già fatto Io scelgo... Stai calmo, stai calmo Sennò io devo andare a 2000 all'ora Cos'era quello con la mucca? Questa Ti ricordo te? Proviamo la mucca Oh Poi scusa, c'è sta Ercamion Eh Parti già avvantaggiata Per camion Vai! Sempre bello questo Joy-Con Joy-Con, giusto? Joy-Con Artrosi Io tanto non ho già una chiste qua, capito? Eh? Sei un mostro! Ho un alien che mi spunterà dal posto Vai! Prateria verde! Basta, questa la devo vincere Poi però questa la devo vincere Nella classifica generale alla fine io sono arrivata quarta e lui sesto Esatto Ma posso fare molto meglio! E me rubano, e me rubano la roba, non importa Mascia vostra Ma c'è anche Link? Eh, Yoshi Nero, eh? No, io sono bravo bambino Ah, come godo Esplodi Mamma, 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 mamma Mamma Un momento, la te rispondi di che c'è Ma Uh, uh, il pezzo, il pezzo, il pezzo Io ho fatto il pezzo Io ho fatto il pezzo Ma che pezzo? Nada, so secondo Non so quanto dura, ma so secondo Quando registriamo i video da te c'è sempre padre mio fuori che fa tipo di lavori rumorosissimi E moche, moche, moche Mario Tanuki E vabbè, è niente, è nato il baretto Yoshi Sì, però sei secondo Perché io sono ottava? Che fastidio! Poi sul mio canale non puoi vincere Vai, 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 vai Non so cosa sto facendo Quello sempre Ecco, grazie Sempre, sempre bello, sempre soddisfacente No, 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 mamma, mamma, mi deve spruzzare Eh, ma ha spruzzato, ma ha spruzzato L'hanno spruzzato, raga Non vedo più niente È nato, tutto è nato, raga Sai che è tutto sempre molto fraintentibile quello che dici, vero? Eh, vacca, eh vacca, ho beccato la vacca Oh, sono quinta, sei settimo, sono ottava Ho lanciato la bomba, non ho bisogno di nessuno Vabbè, io ho lanciato le tartanugra E non hai preso me, fortunatamente Ma tu sei qua davanti a me, ti vedo Io sono seconda No, sei arrivata! Ma perché? Perché sono più brava La scimmia è partita, è partita la scimmia, raga Ragazzi, volete fare delle partite online con noi, con Mario Kart? Se sì, fatecelo sapere Erika sarà contentissima di giocare con voi Ma vero, ma tu corri te più, secondo me tu c'hai qualche tasso speciale Ma io, c'ho il Mercedes, io Eh, vabbè, sono esploso BASTA! BASTA! Sei undicesimo Sei anche un po' sfigadiello Ma non ti esplode la macchina? No Ecco, ecco Chi è che avrei notato l'inchiostro qua? Tu? È colpa tua? No, io c'ho funguita allucinogine No! Mario Tanooki! Eh, vabbè, non ho capito Ti vedo Ti vedo, sei quella macchia nera lì Esatto Dai! C'è un link super agguerrito A strunza Dai, dai, dai Ugo ha trovato! Mee, meee No, 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 no Mi hai superato e non mi hai ucciso Questa è una buona notizia Oh, vedi, adesso si ragiona Sai che cosa? Terzo Quarto Quinto No Aspetta, aspetta, aspetta Fai che la princesa arriva Al traguardo Quinto Ti dovrai aver curato qualcosa, dai Nonna Nonna Nonna, già nonna Siiii! Più uno, dai! AIAIA guarda che sei lì 4 e 5 tu sei il 4 e io punto sopra adesso della prossima vado a vincere BABAMBAPAPAPARA cuorru contributed una fatica, ogni volta che faccio vedere la cuffia una fatica Era peggio questo o FIFA? No questo è un tarasità Oh l mare efficiency il sole lo vento Luglieldu l'usalento. Ammazzo tutti, ma ammazzo. Ti sei agguerrito adesso? Quando abbiamo fatto le prime prove dovete sapere che era un po' così, eh, ma boh, molto in silenzio, adesso tipo morite tutti. Guarda, guardala, 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 guardala. Chi guardala? Guardala che cosa? Io? Dove si va? Oh, oh, oh. Ah, ma qua si va in acqua, ma che è? Ihà, ihà. Granchi maledetti. No, non ho preso lo scatolo, dai. Non ho preso le scatole. Ma cosa sei tu? Guarda. Schifoso. Schifindus. G1, 2, 3. Datemi una scatola. No, se vince lui no, eh, sto giro no. Non lo posso accettare. Non so che ho tirato il boomerang. Mare detto granchio, no, il palo, regà il palo. Regà, regà il palo. No, vabbè. Ah, ma in questo gioco non mi piace più. Sì, te gioca. Non mi piace, beh, vabbè, poi anche il palo e due pali e l'inchiopo. Vai, più giù, più giù, più giù. No, vabbè. No, no, mi hanno beccato. Cori, 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 cori. Eh, vabbè. Gomblotto. Eh, ma mi hanno sbragato pure a me, porca Eva. Gomblotto. Cori, 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 cori. Cosa sei? Che numero sei? Settimo. Eh, io dodici. Comunque questa pista è difficilissima, eh. Perché entri in acqua, poi c'è i pali, i granchi, tutto c'è. C'è tutto. Eh, tutto. No, 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 lo vedi, lo vedi, lo vedi. Quanto siete cani? Quanto siete cani? Settima. Chi? Bau, 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 bau. No, la stella. Guardala. 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 No. Maledetta. Terza. No, non ci credo, raga. È stata tutta la gara ultima. Se siamo un frugia di noi è passata. Mi piace. C'è l'ultima, c'è l'ultima. Ma come c'è l'ultima? La prossima corsa, pensavo fossero tre. Devi esplode, devi. Ma come? Ah, i camioni, i camioni. Qua è casa mia. Tutti tuati, Divya. Papara, papapara. Donna. Do stanno in scatole? Perché si muovono queste scatole? Si muovono. I pullman. Ah, i camioni li devi prendere. Perché hanno le piste. Le piste quelle per andare più veloce. No, ma è difficilissima. Cos'è sta roba? No, no. Vai, vai. Opla. Vai. Ma perché io vado pianissimo? Non capisco. Non lo so. Perché tu sei terzo? E perché ci sono dei robi per andare più veloci sulle paredi? Si fa raggiungerle? Non lo so. Qua, qua, il camione. Il camione. Beh, però sei proprio merda. No, non è che una scatola ho preso. Dai. No, vabbè. Semina, semina banane. Semina banane. Ma guardando l'iso ho passato. No, la banana ho preso. Ah, bene, bene. Buono. Non so chi era, ma qualcuno ha moruto. Iha! Tanuki! È partita, è partita. Ha ripiato vita, ha ripiato, regà. Ha ripiato vita. Perché sei settimo? Cioè, perché sei secondo e come second? Io sono settima? Io sono più forte. Eh, vabbè. Ta, 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 ho preso bene una banana. Bene, bene, l'ho messa io, ho messa io. Vai, vai, vai. Vai, iocinero. Come sei primo? Vai, iocinero. Ma tanto adesso ti becchi qualcosa in faccia e via. Si vabbè, adesso. Ma è difficilissimo questa pista comunque eh. Maledetto, Maledetto! No, no, no Sei morto? Siiii! Ti hanno sbracato? No, 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 come guardate? Aspetta! È il momento della verità? Siiii! Nooo! No, aspetta, aspetta, aspetta! Siiii! 38, siiii! Dai, va per tre punti! Dai! Questo video finisce qui Spero che vi sia piaciuto Mettete tanti like Iscrivetevi se proprio dovete al canale di Ferri Quanto vi piace quando vedi? Posso stare così tutto il tempo? Vai, continua! Vaffaculo! Iscrivetevi al canale di Ferrix Se proprio dovete Tanti commenti E alla prossima volta Gioca Erika Ciao! Ciao! Ciao!